a tutti non so quando andrà in giro non lo so ma perché è una cosa ci abbiamo anche la live però io devo far vedere una cosa a Kevin è una cosa che ho fatto io allora lo manovro io ma poi continua Kevin allora Kevin inizia tutto come stai? seduto poi ti volevo sapere questo qui guarda qui è un mondo se guardi guarda ti faccio vedere è un mondo che ti dico anche dove stiamo è la Dura City ok siamo in Basilicata si lo sapevi? qui siamo in Basilicata è un Basilicata Kevin non sai dove è la Basilicata? allora io vi chiedo una cosa ma quelli ignoranti che non sanno dove è la Basilicata sono ignoranti in Matera? è un Matera vabbè comunque parte sta cretinata è Basilicata vai a Geografia allora è una cosa veloce questo è un mezzo video parlato ma soprattutto musicale perché? oggi ho deciso di fare questo guarda voglio ballare il disco Italo di... vabbè come vedrete oh 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 come vedrete a prima volta usiamo la creativa l'ho dovuto fare cioè ho usato la creativa perché? leggi che c'è scritto Museo? dei YouTuber mi leggi sì infatti ora te lo do allora devi andare verso lì vai al primo c'è dentro i cartelli voglio che tu scopri poi faremo vedere come ho fatto ma sono un po' lento prendi i cartelli ah ce ne sono già i cartelli ce ne sono già i cartelli a ognuno davanti devi capire che YouTuber ho fatto chi è questo YouTuber? ragazzi se non lo sapete dopo vi faccio vedere accanto vedrete la foto aiuto sono lento che YouTuber questo è un YouTuber che Kevin ha seguito da quando praticamente aveva appena iniziato a vedere com'è venuto? voglio che mi dai un voto questo com'è venuto? quanto odio lo slime questo che voto mi dai? com'è venuto? dai lion set vai set poi vedrete un video di come l'ho costruito velocemente con la musica accanto c'è il mio YouTuber preferito ho fatto lui e suo figlio e lui c'è anche nei suoi video c'è anche quello piccolo ragazzi avete scoperto il mio YouTuber preferito se lo guardate è scemo come me quindi hai sbagliato perché cosa ho fatto? serviva un materiale molto più bello come materiale molto più bello non mi rovinare il mio bella faccia guarda tipo questo è più bello ah ah ok va bene imparerò farò un altro materiale però scusa è un pollo scusami no non sta a cancellare ora non è il momento Kevin non sta a cancellare no guarda come è più bello allora vedi è più bello va bene va bene la faccia ha le penne così sembra che non ha le penne comunque va bene forse il peggio è quello accanto ma voglio capire se lui riesce a capire chi è questo forse è quello che mi è venuto peggio era il primo che ho fatto no cosa ha fatto chi è allora adesso vedrete un video veloce con la musica com'è brutto è brutto dai è la prima volta che faccio il mio youtube falli vedere tutti allora questo sarà mi abislazio non fare domande non fare domande non fare domande è venuto bellino allora questo è il mio primo inizio farò se avete piacere altri youtuber anche no vabbè Lion è venuto al meglio di tutti comunque adesso godetevi il video del montaggio di come l'ho costruito lo vedrete velocissimo e quindi adesso che finirà vi farò la chiusura del video ok buon divertimento Kevin bisogna dare il lancio del video vi farò vedere come lo montate lancialo Kevin lancia il video Kevin video musico non lanciati te comunque buona visione Grazie a tutti. 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 Tu hai fatto tutti questi youtuber, ma il più famoso... No, no, questo è un inizio. No, devi fare me. Io sono il più famoso. Ancora non possiamo entrare nel mondo del museo, bisogna almeno arrivare a un milione di iscritti. Ci siamo vicini, siamo a 3006. Allora, chiudiamo in bellezza, Kevin. Allora, fammi il voto, fammi il voto. Allora, ma due lama. Eh. Dov'è che ascoltano la musica? Nel lama disco. Su Spotify. Su Spotify. Su Spotify. Ragazzi. Sai che fine farà sto maiale? No, 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 non mi ammazzare il maiale che è quello... La mamma è sempre nei paraggi. Te è buono. Allora, grazie di essere stati con noi. Grazie di essere stati con noi. Spero vi sia piaciuto. Questo museo è la nostra rubrica sul nostro mondo Kevin City. Nuova rubrica e insomma, alla prossima. Va bene? Guarda, lui è più bello. Povero bella faccia. Dai, è bello, bello. Non le faccio. È bello, è bello. Comunque. Ciao ragazzi. Alla prossima. Bella faccia.